musica 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 allora quest'oggi vi presento un tutorial per scaricare Infinity Blade 3 allora prima di tutto per poter scaricare questo gioco bisogna avere il proprio device gelbricato andando su Sibia e andando su gestisci sorgenti bisogna aggiungere una sorgente che si chiama Free Your Apple e per aggiungere basta fare modifica, aggiungi e scrivere free your apple free your apple.com barra repo un slash va bene una volta aggiunto tutto ciò basta andare su ricerca e scrivere 25pp 25pp ha uno shop alternativo all'app store che ci permette di installare programmi IPA gratis praticamente un programma IPA è un programma normalissimo come un qualsiasi programma comunque possiamo dirlo in questo modo una volta scaricato 25pp apritelo e nella home o comunque cercandolo basta andare a cercare Infinity Blade in questo caso è nella schermata principale e basterà cliccare la freccia per portarci a la sua scheda una volta portata nella propria scheda basterà cliccare il pulsante qui a sinistra al punto che sto indicando per poterlo scaricare in modo gratuito il file IPA sarà possibile scaricare il file IPA in qualsiasi caso però per poterlo installare nel proprio device bisognerà installare tramite un altro soggetto che comunque sarà una tra le predefinite decidia IP installer basterà fare ricerca e installare il proprio device spero che questo video vi sia stato d'aiuto e comunque vi sia servito se il video fosse stato così lasciate un like un commento bella al prossimo video bella grazie